Da dove inizia il nostro viaggio? Bergamo, aeroporto di Orio al Sere. E-commerce, commercio internazionale, acquisti in rete. Oggi parliamo di lotta alla contraffazione ed, in particolare, del ruolo dell'agenzia Accise, Dogane e Monopoli, che quotidianamente, con la sua attività, assicura la tutela dei consumatori e il contrasto alla concorrenza sleale tra le imprese. Il mercato del falso è in crescita e mette a rischio la tua salute e la tua sicurezza. La merce contraffatta potrebbe essere realizzata con materiali potenzialmente tossici, a DMT tutela, controllando le merci in ingresso. Come avvengono i controlli? Andiamo a vederli sul campo. Fai attenzione. Verifica i siti per i tuoi acquisti online. Le offerte, a volte, sono solo apparentemente vantaggiose.